Il corso di laurea triennale, riconosciuto Moore in habitat design, è un corso che forma designer in product design, interior design e landscape design. I laureati in habitat design hanno diverse opportunità. Possono collaborare o fondare studi professionali. Molti lavorano nei settori dell'exit design e del retail e altri invece forniscono servizi, soprattutto nell'ambito della visualizzazione di progetti. Il motivo di vanto è proprio il dato di collocamento dei nostri laureati che si attesta sul 96%. Imparerai a leggere disegni tecnici, a prototipare oggetti, a organizzare spazi e arredarli, a progettare giardini e piccoli parchi, fino alla conoscenza di software come AutoCAD, Rhinoceros, 3D Studio Max e Revit. I docenti durante il triennio ti aiuteranno a sviluppare i progetti che volta per volta ti si presenteranno, come se fosse un atelier, uno studio professionale in cui il docente ti accompagna come un supervisor e tutti insieme vi confrontate sulle questioni che ogni singolo progetto pone. Sicuramente non perderai tempo, non dovrai rivolgerti a strutture esterne per lo sviluppo di tuoi prototipi e di tuoi modelli, perché avremo qui all'interno un laboratorio, il Quasar Lab, con tutte le macchine all'avanguardia proprio per lo sviluppo di prototipi. Non farai soltanto materie teoriche, ma affronterai progetti reali all'interno dei laboratori e soprattutto non sarai mai lasciato solo.